Far attivo anche quest'anno presso l'Università di Camerino il percorso formativo denominato PF24 e finalizzato all'acquisizione di 24 crediti formativi nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche necessari per l'accesso al percorso FIT. Il percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio a cui seguirà l'inserimento nella funzione di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Nei prossimi giorni sarà pubblicato nel sito di Ateneo www.unicam.it il bando di ammissione, le modalità e i costi di iscrizione nonché tutte le informazioni relative all'erogazione delle attività didattiche.